beh che dire grazie grazie di tutto 5 mila grazie ormai nel canale ci sono più di 5 mila iscritti e questo mi fa molto piacere vi ringrazio vuol dire che insomma come dire ho cercato di fare qualche cosa che potesse essere d'aiuto a qualcuno e sono contento di sapere che a molti di voi è servito ciò che sto facendo io ho iniziato nel 2013 siamo nel 2022 con il primo video dell'espianto della vigna vecchia sono passati 9 anni 8 anni dall'impianto della vigna come dire per una strana coincidenza adesso mi ritrovo a dover buttare le vinacce come concime cioè siamo partiti dalla vigna e adesso l'uva le vinacce tornano alla vigna come una sorta di percorso circolare perché poi alla fine la viticoltura tutto il processo della viticoltura questo è una sorta di percorso circolare che parte dalla terra e finisce nella terra spero che questo questi video vi siano serviti continuate a farmi domande insomma se il vino vi piacciono mettete un mi piace ma non perché non è per qualcosa cioè non è qualcosa di mio personale se vi piace insomma è una piccola gratificazione che a me fa piacere quindi 5.000 grazie ancora a tutti voi alla prossima ciao